Inter Benfica 1 a 0 la decide Marcus Turam vittoria fondamentale in questo girone e siamo nel post partita con oltre duemila persone collegate tra tutte le piattaforme andiamo a dare insieme i voti ai giocatori dell'Inter scesi in campo con le pagelle dei tifosi quindi lo ribadisco lo ripeto come sempre le pagelle sono una sintesi di quello che viene scritto anche dalla community in diretta e lo facciamo con il nostro consueto tier maker un tier maker come al solito che presentiamo in cinque fasce cinque fasce dove MVP andrà assegnato al migliore in campo e forse oggi individuare un migliore in campo non sarà cosa semplicissima top per quelli che sono andati particolarmente bene ok per quelli che sono sulla sufficienza rimandato per quelli sotto la sufficienza e flop per i giocatori invece bocciati che però in questa serata così importante con una delle migliori prestazioni stagionali dell'Inter fatico sinceramente a trovare partiamo dal portiere quindi Jan Sommer Sommer che subisce ancora una volta un clean sheet comunque ancora una volta protagonista di una partita senza gol subiti fa un miracolo una grandissima parata su oursness e quindi per me oggi ancora una volta Sommer si mette alle spalle l'errore di campionato e si prende invece un bel top parata decisiva è stato secondo me più bravo del solito anche nella costruzione nel partecipare alla manovra di costruzione vedo che la chat è sostanzialmente tutta d'accordo e poi andiamo in difesa Benjamin Pavard ragazzi io sono clamorosamente di parte su Pavard secondo me non ha sbagliato assolutamente niente ma non oggi in generale da quando è arrivato all'Inter partita che per me con il suo rendimento migliora anche quelli che gli stanno attorno meriterebbe addirittura l'MVP secondo me il migliore in campo noi glielo diamo perché c'è qualcuno che probabilmente ha inciso ancora di più sulla partita però ragazzi Pavard è un giocatore di livello di un'altra categoria rispetto alla gran parte dei difensori secondo me anche rispetto a molti che abbiamo visto in generale nell'Inter negli ultimi anni e dovrebbe giocare sempre con tutto il rispetto per il mio idolo Matteo Darmian ma Benjamin Pavard sarà difficile toglierlo e tra l'altro come dicevo secondo me è un giocatore che deve ancora acquisire tutte le diciamo dinamiche tutti i meccanismi della difesa e del gioco dell'Inter ma oggi ci ha fatto vedere anche una bellissima sgroppata offensiva che è molto 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 promettente lo mettiamo per il momento top poi decidiamo insieme se eventualmente alzarlo però il voto per me è alto oggi per provare centrali a cerbi a cerbi ha fatto una piccola sbavaturina ma complice un passaggio di di Marco che l'ho messo in difficoltà si è proposto molto anche in avanti si è fatto vedere tantissimo i centrali gli attaccanti avversari praticamente non si sono visti prima neres poi dopo anche musa prestazione importante per me di acerbi non so se per differenziarlo lo vogliamo mettere un gradino sotto Pavard negli ok alti però anche acerbi il top secondo me lo merita per quella che è stata la prestazione comunque il benfica ragazzi ripeto per me questa era una gara molto più insidiosa di quello che in tanti sostenevano e l'Inter di fatto ha concesso un'occasione da gol quindi dormitina sulla rimessa laterale che lo fa scendere un pochino sotto però lo top ci sta bastoni io lo metto però un pochino sotto rispetto agli altri perché su oursness ha avuto anche lui un pochino di difficoltà poi ha cresciuto molto nel secondo tempo in generale nel secondo tempo sono cresciuti tutti e Pavard a acerbi secondo me sono un gradino sopra quindi bastoni inevitabilmente finisce negli ok e vedo che la chat sostanzialmente è d'accordo quindi centrocampo con Denzel Dumfries allora Dumfries come lo valutiamo per me oggi ha fatto una buona prestazione che risente di alcuni errori sottoporta abbastanza gravi secondo me però poi sul gol sull'assist a Turam per me è molto intelligente perché io lì sinceramente mi sarei aspettato da Dumfries il passaggio per Lautaro Martinez sul primo palo invece all'intelligenza secondo me di attendere una frazione di secondo poi andare al rimorchio su Turam e non che fosse una giocata clamorosa nel senso che da lì te lo aspetti anzi tendenzialmente è la giocata più classica quella del passaggio dietro al rimorchio per me finisce nei top per questo sto vedendo quello che state scrivendo in chat si prende il top soprattutto per l'assist però ha sbagliato tanto e anche un'occasione da gol soprattutto di testa è stata veramente clamorosa quella fallita però oggi era una prestazione importante aveva un cliente scomodo tra l'altro lì da quella parte e lo ha gestito bene e anzi Bernat lo ha costretto a rimanere sempre basso e Dumfries in questo momento è comunque un valore aggiunto secondo me dal punto di vista offensivo della pericolosità che porta sui centrali Barella c'è un auguro Mkhitaryan allora qui facciamo un po' di ordine partiamo da dal migliore dei tre per me il migliore dei tre è Mkhitaryan partiamo da qui così poi andiamo a dare le valutazioni agli altri Mkhitaryan per me è stato il miglior centrocampista di tra tutti e tre e l'ho visto molto importante in fase di non possesso avevo molta paura della nostra zona sinistra tra Di Maria Raffa Silva che si inserivano eccetera e non l'ho mai visto in difficoltà ecco probabilmente Mkhitaryan lo metterei addirittura MVP probabilmente lo darei addirittura MVP perché nel primo tempo dicevo non avevo la sensazione di un inter dominante a centrocampo questo dicevo nel primo tempo però poi nel secondo tempo invece l'abbiamo presa in controllo assolutamente e tra questi secondo me Mkhitaryan è stato il migliore sì sì Mkhitaryan ragazzi stasera si prende l'MVP mi piace che gran parte della chat di Passione Inter dia l'MVP a Mkhitaryan in una partita in cui non ha fatto assist non ha fatto gol e ci sono altri magari un pochino che hanno fatto cose più vistose mi piace come ragiona la chat e quindi si merita l'MVP lui poi andiamo sugli altri Barella primo tempo così così però secondo tempo ancora una volta io ho rivisto segnali di un grande Barella che per il momento ancora non incide in zona gol e in termini di assist poi c'è da dire che in un paio di occasioni Barella ha avuto anche la possibilità di essere servito in buona posizione ma non gli è arrivato il pallone quindi anche per dei meriti non suoi non è riuscito a prendere e andare in rete peccato il giallo sono d'accordo con Gorgio peccato il giallo che poteva risparmiarselo e quella è una delle lacune delle critiche che gli muoviamo più spesso sicuramente il se però alziamo la valutazione di Dumfries per l'assist il pallone che Barella da Dumfries per l'assist è geniale quindi Barella per me top se lo merita e e c'è l'anoglu sta lì probabilmente c'è l'anoglu secondo me cresce come valutazione perché negli occhi di tanti tifosi rimarrà quel recupero fatto a gioco fermo quello per me condiziona un pochino in una prestazione in cui qualche errore di troppo soprattutto nel primo tempo c'è stato e però devo dire che questa era una partita in cui c'è l'anoglu secondo me era assolutamente sotto pressione per il tipo di gioco che fa il benfica ed era il ruolo per me oggi più complicato quello di ciala e se ne esce fuori con una prestazione ampiamente positiva quindi inevitabilmente anche lui finisce nei top e mi sembra giusto l'inter la vinta soprattutto a centrocampo secondo me quindi è giusto che tutti e tre finiscano alti su di marco ragazzi io sarò in popolare ma me di marco oggi così così ancora una volta perché è stato molto importante nell'uscita dal basso e gli riconosco che nel primo tempo siamo stati un pochino pressati e lui è stato uno di quelli più bravi secondo me a contribuire all'uscita dal basso però io ripeto in diretta anche un po' scherzando avevamo parlato di candrevite secondo me gli si è innescato quel chip per cui quando arriva lì deve sempre crossare nel secondo tempo non lo ha fatto alla fine quando eravamo tutti in fiducia ha fatto anche una bella giocata corta e contro una difesa come otamendi morato che stava controllando e gestendo tranquillamente tutti i cross secondo me si poteva cambiare anche spartito gli riconosco però una grandissima importanza nell'aver contribuito all'uscire dalla fase difensiva bassa dove è stato decisamente importante per cui l'ok se lo merita assolutamente non andrei sul top sinceramente per per quello che è stato l'impatto dentro la partita per quello che il paragone anche con gli altri marcus turam turam ragazzi decide la partita e già di per sé questo dovrebbe dirla dovrebbe dirla lunga su sul rendimento di turam oggi secondo me il il benfica aveva studiato bene i movimenti dell'inter che con turam e lautaro cercava di attirare fuori i difensori ma poi c'era sempre qualcuno a a chiudere e a coprire meglio quindi oggi ci ha provato ci hanno provato si sono mossi abbastanza bene anche se nel primo tempo con con un po più di difficoltà e però il benfica ha gestito bene una delle cose migliori che hanno fatto secondo me è stata proprio quella di coprire bene la zona centrale del campo e il gol che fa è da centro avanti per quanto qualcuno continuasse a dire che diciamo non come dire che non insegna non tira tante cose oggi ha fatto un gol da centro avanti un gol pesantissimo se vogliamo premiarne uno solo lo metto top molto alto e mi chitariano leggermente più su però turam un top estremamente alto lo mettiamo lì sotto e lautaro martinez ragazzi anche qui io sarò in popolare perché nel primo tempo ha avuto delle difficoltà assolutamente e diciamo che bisogna capire quanta responsabilità vogliamo dare a lui sui gol sbagliati e quanti meriti vogliamo dare agli avversari per me lautaro ragazzi ha fatto una signora prestazione e se non è arrivato il gol è solo per una serata storta perché per me un attaccante che non è in forma e non è in fiducia non ha tutte quelle occasioni e non sono occasioni che gli sono capitate e le ha sbagliate sono occasioni che anche lui ha contribuito a generare secondo me e quindi gli vanno dati dei meriti trubin è stato bravissimo gli vanno riconosciute dei grandi meriti anche lui otamendi lo stesso io lautaro lo metto nei top comunque per quello che ho visto stasera e non sarete d'accordo molti no però vedo che in tanti siete d'accordo pensavo di essere più impopolare e quel dribbling che fa in area sono d'accordo con gorgio è veramente una grande giocata pizzico di fortuna in più e stasera portare a casa ritrovare un risultato ancora migliore e va bene poi sulla panchina i giocatori che sono subentrati di quelli subentrati Alexis mi è sembrato il migliore devo dire Sanchez non ha avuto il tempo magari di prendersi un super voto però l'ok pieno per me Alexis se lo prende così come Darmian lo stesso è entrato con ordine in una fase in cui c'era più da difendere e diamo l'ok anche a al signor Matteone Darmian che apprezziamo sempre tantissimo poi Klasen vabbè senza voto è entrato in quattro minuti dalla fine Carrosso Augusto è entrato all'ottantaquattresimo insieme ad Aslani io ragazzi Aslani magari possiamo dargli senza voto sia ad Aslani che a Carrosso Augusto però Aslani è entrato va bene essere caldi va bene essere aggressivi ma è entrato con due gomitate si è preso un giallo non penso che fosse quella lì diciamo l'aggressività che gli richiedeva Inzaghi quindi è un altro mattoncino per me che mette Aslani gli viene data fiducia e comunque il suo lo fa però ecco quelle due gomitate così qualche uscita un pochino in ritardo era una partita tosta ma lo mettiamo senza voto comunque cinque minuti di fatto ha giocato lo lasciamo lo lasciamo lì e manca soltanto Simone Inzaghi Simone Inzaghi ragazzi inevitabilmente finisce col top perché la partita la la seputa la saputa indirizzare la saputa preparare e a livello anche di cambi sono stati cambi comunque logici è chiaro che poi il risultato aver sbloccato cambia ancora le cose oggi ancora una volta Inzaghi ha incartato il Benfica la portata a casa quindi prestazione del secondo tempo è impressionante dell'Inter di grande convinzione e magari non sarà il gioco del Milan ma a noi va bene così fatemi sapere nei commenti se siete d'accordo con le nostre valutazioni mi raccomando vi aspetto con le vostre valutazioni nei commenti vi ricordo ovviamente di seguirci dopo le partite per dare i vostri voti insieme a noi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno grazie a tutti